e alle 7 in punto ci ritroviamo insieme buongiorno benvenuti alla rassegna stampa di fano tv occhio e giornali ci ritroviamo insieme qui sul canale 17 ma anche sui social tanti ci seguono come di consueto quando arriva la notifica sul telefonino in particolare sulla pagina di facebook di occhio e la notizia ecco è il momento di essere informati con con che cosa con occhio e giornali che è una selezione delle notizie più importanti dei quotidiani dai quotidiani il resto del carino del corriere adriatico ma c'è anche il tempo il tempo perché avremo un'autobrata tra poco lo vedremo ovvero bel tempo per tutta la settimana almeno fino sabato e poi c'è il santo il santo del giorno che lo vediamo che andiamo a vedere subito con l'aiuto della grafica a tutti i paolo che ci ascoltano e paola che ci ascoltano in questo momento facciamo gli auguri perché oggi è il loro nomastico la chiesa cattolica ricorda san paolo della croce l'alba le 7 31 il tramonto le 18 e 20 dicevamo di quest'ottobrata dal sito trebimeteo punto it anticiclone in arrivo salvo qualche pioggia su parte del nord per il resto ci sarà l'alta pressione con temperature in netto rialzo nei prossimi giorni domenica invece tra sole qualche equazione al centro al centro sud andiamo invece nel dettaglio con il bollettino della protezione civile delle marche che per la giornata di oggi prevede cielo sereno poco nuvoloso con temperature lieve aumento nei valori massimi anche per domani martedì 20 vedete ancora cielo sereno poco nuvoloso qualche foschia nottetempo e al primo mattino poi come dicevamo insomma tempo stabile anche nella parte centrale di questa settimana forse qualche pioggia l'avremo la rivedremo soltanto nella giornata di sabato allora c'è lo sport lo sport in primo piano sui quotidiani questa mattina a centro pagina il Corriere Adriatico il Fano fa un brutto scivolone questa è la fotonotizia in serie C Granata KO con Limolese il Fano che perde 2 a 1 poi stoppo alla Movida potere ai sindaci si parla del nuovo decreto Conte dalle 21 si potranno chiudere le zone dei locali a rischio assembramento a Pesero nel fine settimana controllate 29 attività multa e un giorno di chiusura per lo Spoda e poi l'epidemia il quadro della situazione nella nostra regione più di 200 contagiati in un giorno 101 ricoverati poi sulle in breve sempre qui in prima pagina tormentava in chat una sua coetanea indagata una 15enne pesarese d'accordo con altri due o tre complici in giro per l'Italia poi a San Giovanni picchia i genitori poi sale sul tetto e minaccia tutti e a Mondolfo tradito dal cuore dopo la volata muore un ciclista e questa invece la prima pagina del resto del Carlino di Pesero polizze altri truffati oltre la diocesi investimenti in Liechtenstein azzerati quindi spuntano diversi pesaresi i cui risparmi si sono volatizzati ormai la società in Liechtenstein non esiste più e quindi sarà molto difficile riavere questi soldi una ragazzina perseguitata via chat dai coetanei nei guai una 14enne e poi sulla statale scappa all'alta e abbandona il furgone lo vedremo tra poco del conducente non vè più traccia allarme posti letto terapie intensive nelle marche i conti non tornano poi la lettera del presidente delle marche acquaroli marchigiani tocca a tutti noi serve prudenza dunque acquaroli chiede ai cittadini marchigiani di essere prudenti non serve che lo dica io quello che stiamo vivendo è un momento complicato e molto delicato non esiste al momento un vero e proprio allarme la situazione è sotto controllo dice acquaroli ma sicuramente il trend dei contagi in crescita uniformemente in tutta Italia ci dimostra che dobbiamo tenere molto alta l'attenzione per evitare di arrivare in una situazione aggravata che potrebbe compromettere la salute dei cittadini e delle persone più fragili e all'adozione di misure più drastiche che penalizzerebbero il tessuto socio economico poi continua questa lettera a pagina 2 del Carlino di oggi nominata cavaliere vada mattarella la cassiera dell'ipercop che donò i pasti ai sanitari assembramenti chiuso un altro locale un pub nel mirino di a pesero poi la paura a tavola i ristoratori già saltano dicono le prenotazioni e lo sport alma dal 2 a 0 divorato al ribaltone del limolese il calcio per la squadra del fano ancora un k o in casa e poi battaglia bipartisan contro la secessione la sottosegretaria alessia morani interviene questa mattina pagina 7 sul resto del carino su contro i due comuni che vogliono andare in emilia romagna vedremo dopo la pagina della valle del cesano cominciamo dalla cronaca tradito dal cuore dopo la volata shock al gran premio mondolfo vittima il ciclista amatoriale mauro gabellini 55 anni di san giovanni in marignano questa questo è il titolo con la notizia che riguarda appunto questa morte morte avvenuta per infarto a 55 anni al traguardo della gara ciclistica amatoriale è stato troncato da un malore ieri poco prima delle 13 mauro gabellini romagnolo di san giovanni marignano che si era iscritto al gran premio città di mondolfo con partenza e arrivo sulla cesanense nella frazione di molino vecchio è stato fatto di tutto per circa mezz'ora si è provato a ripartire a far ripartire i battiti del suo cuore si è tentato il tutto per tutto poi la corsa disperata fino all'ospedale di pesaro però nel tragitto proprio nel tragitto scrive Jacopo Zuccari sul giornale questa mattina verso nel tragitto verso il san salvatore il cuore di gabellini ha cessato di battere sotto shock ovviamente gli amici e compagni di squadra mentre paolo ligi del comitato organizzatore velo club di mondolfo dice ho perso un un amico e da una vita che se ne va una vita trasformata per i credenti e c'è la gioia invece la dolce attesa una vita che sta per nascere anzi è già è già nata perché è dentro la pancia però comunque sta per venire al mondo il bimbo la bimba di lucia catalani e nicola barbieri sindaco di mondolfo lei invece assessore e quindi è nato l'amore tra sindaco e assessora bimba in arrivo ecco una bimba barbiere catalani svelano la dolce attesa su facebook una notizia che sta facendo un po il giro del del web anche nel nostro territorio perché perché il sindaco di mondolfo nicola barbieri 32 anni e l'assessore all'ambiente lucia catalani 36 anni avranno appunto questa bambina loro hanno postato questa foto bella tra l'altro molto bella questa dove il sindaco sta sta tinteggiando le pareti della loro futura futura casa mentre la futura moglie con il pancione vedete ecco con la mano tipico atteggiamento protettivo della mamma che tocca il pancione per sentire insomma per già in una sorta di abbraccio e di carezza dunque sul sul invece sulla pagina pagina 8 del Corriere Adriatico c'è sempre la cronaca con questa notizia che riguarda che riguarda una chat di quelle che ce ne sono tante insomma una chat di classe di una scuola e dove è stata presa di mira in questa chat una ragazzina e questa ragazzina è stata costretta prima a realizzare dei filmati con scene di autolesionismo dove doveva ferirsi no e poi video a carattere anche sessuale tutto sparato su whatsapp tramite numeri esteri falsi generati tramite apposite app condiviso poi con i compagni della vittima che poi chiaramente è caduta in uno stato di disagio psicofisico non indifferente tutto questo è partito grazie alla segnalazione di due mamme due mamme che sono entrate nei cellulari dei figli e hanno visto hanno visto quello che evidentemente avrebbero evitato o preferito non vedere queste film questi filmati queste fotografie anche a sfondo sessuale poi chiaramente la denuncia la denuncia la polizia postale e quindi tutto il tracciamento fino arrivare alla vittima e agli aguzzini tra virgolette a coloro che poi hanno fatto fare tutto questo proprio di roba l'appello che invece è sempre pubblicato questa materia sul giornale il Corriere Adriatico riguarda la sparizione nella notte dal parco giochi di Baia Flaminia a Pesero di uno dei gonfiabili attrazione vera e propria per molti bambini un furto non proprio semplice dato che il gonfiabile è comunque un pezzo ingombrante la sparizione nella notte nella notte a cavallo tra sabato e domenica ieri sui social è stato lanciato un appello dalla titolare del parco giochi per raccogliere eventuali segnalazioni sotto invece il taglio basso ruba furgone forza un posto di blocco si schianta insomma fatto da matto come si dice forza un posto di blocco finisce in un parcheggio con il furgone rubato lasciato fuori con lasciato fuori controllo e si schianta contro un palo è successo sulla statale 16 all'ingresso sud della città di Pesero nella notte tra sabato e domenica in strada delle Marche sottomonte luigi benelli scrive un po i particolari a bordo non c'era il conducente non c'era traccia del conducente che si è dato la fuga a piedi il ladro probabilmente ha preferito abbandonare il mezzo in tutta fretta per evitare arresti e denunce anche il carlino files pedopornografici neguai una quindicenne abita questa ragazzina nella provincia di Pesero Rubino è accusata assieme a due coetanei i suoi complici di aver costretto una ragazzina a produrre questo materiale come abbiamo detto autolesionistico e sessuale deridendola poi in una chat quella di classe iniziate dalla denuncia delle madri di due compagni di classe che hanno visto i loro cellulari non si ferma all'alta dei carabinieri sulla statale 16 poi abbandona un furgone si dilegua una pattuglia intercetta la notte scorso un mezzo rubato in strada delle Marche il conducente finge di rallentare per forzare il blocco poi fugge a piedi allora adesso la pagina del covid però partiamo da questa considerazione che è una considerazione che noi abbiamo già fatto in rassegna stampa nei mesi difficili durante il primo il primo tempo come abbiamo sempre detto ma che vale la pena rifare e lo facciamo anche grazie a derrick de kerkove che a 76 anni è un sociologo e giornalista belga naturalizzato canadese il quale dice una cosa che della quale sicuramente siamo tutti più o meno convinti e d'accordo troppo covid sui media cioè parlare troppo del coronavirus in televisione sui giornali sui nelle radio su facebook su internet sui social alimenta il panico e fin qui io direi che non c'è molto da aggiungere nel senso che si probabilmente si è tutti quanti d'accordo con de kerkove che spiega appunto poi in questa intervista a luca bolognini il perché di questa sua tesi che è un po ripeto sposata da tutti in francia in inghilterra cita per esempio hanno capito da tempo che non si può parlare solo della pandemia in effetti se chi ha la possibilità di guardare su internet è molto semplice basta andare sui siti dei giornali giornali più importanti testate più importanti nel resto del mondo insomma ci si accorge che a parte la questione politica per esempio negli stati uniti dove lì lo si fa apposta per far perdere trump e vincere biden ma al di là di questo gli altri giornali mettono il covid nelle pagine interne e spesso e volentieri è mezza pagina o addirittura anche meno in realtà se apriamo i nostri giornali e noi lo vediamo tutti i giorni il covid è un martello pneumatico che continua incessantemente a martellare nella nostra testa h24 così vale per i giornali così vale per le televisioni piccole e grandi compresa la nostra la nostra e quindi bisognerà farsi adesso di nuovo visto che stiamo in un in una ripresa importante dei contagi capire se è il caso di andare avanti e generare questo panico oppure fermarsi noi l'abbiamo fatto nel primo nel primo caso a un certo punto abbiamo deciso di rallentare di frenare e di dare solo le notizie più importanti stiamo cominciando a ragionare allo stesso modo quindi anche oggi abbiamo selezionato e diminuito le pagine che riguardano il covid 19 ma oggi non possiamo non parlare del dpcm cosiddetto di conte palazzo chigi e qui andiamo subito a vedere quali sono le disposizioni che riguardano poi la vita di tutti quanti noi allora le misure del nuovo decreto di palazzo chigi prevede per chi non l'avesse seguito ieri in prima visione allora locali chiusura alle 24 ma con consumo ai tavoli poi i sindaci potranno chiudere le zone calde della movida dalle 21 questa è una decisione che ha fatto storcere un po il naso ai sindaci a lanci perché l'hanno vista un po come uno scarica barile comunque le zone calde ogni città ogni paese ogni zona turistica ha le sue zone calde e quindi i sindaci potranno decidere se chiudere alcune vie alcune piazze dove ci sono assembramenti eccetera poi stop agli sport amatoriali dunque abbiamo visto niente partita calcetto e quant'altro le sale gioche potranno sale gioco potranno rimanere aperte invece fino alle 22 le palestre quelle che poi invece nel primo lockdown hanno riaperto dopo tantissimo tempo in realtà adesso hanno ancora una settimana per valutare ma pare che insomma la situazione di sia abbastanza tranquilla mentre assolutamente stop a feste e sagre e qui adesso bisognerà capire per tutto ciò che riguarda fiere tipo l'ultima che c'è stata a Sant'Angelo in Vado piuttosto che i mercatini di Natale tutte queste cose qui bisognerà vedere adesso che fine faranno poi le scuole gli ingressi alle scuole superiori scaglionati a partire dalle ore 9 tutti gli altri potranno entrare regolarmente ma le scuole superiori invece più tardi questo forse anche per garantire per quanto riguarda i trasporti probabilmente insomma c'è tutta questa situazione che chiaramente va controllata meglio parrucchierie invece parrucchiere ed estetiste rimarranno aperte anche loro molto penalizzate nel primo lockdown poi si è visto che in realtà non ci sono rischi tutti straprotetti coperti quindi il problema come avete visto come abbiamo visto non è certamente così come non lo è mai stato nelle parrucchierie o tra le estetiste insomma questo è un po' quello che di cui si parla sul Corriere e sul Carlino di questa mattina poi più di 200 contagi in 24 ore questo invece il bollettino della sanità marchigiana che ha inviato alle redazioni in 24 ore un positivo praticamente ogni 8 tamponi quindi ieri il quarto picco più alto dall'inizio della pandemia il totale si arriva intorno ai 10.000 nelle Marche i ricoveri per Covid invece superano quota 100 quindi ci sono in questo momento negli ospedali marchigiani 100 persone ricoverate però solo di queste 100 persone ricoverate 13 si trovano in terapia intensiva ora capite da solo da soli che la situazione chiaramente sta cambiando leggermente è cambiata rispetto ai giorni scorsi soprattutto per quanto riguarda i tamponi per quanto riguarda i positivi stanno aumentando di molto i positivi però ecco ripeto continuiamo come abbiamo sempre fatto a mantenere la calma innanzitutto niente panico niente terrorismo né da parte nostra che abbiamo il dovere di informarvi correttamente né da parte vostra e quindi cercare di recepire queste informazioni nel modo corretto quindi in questo momento come anche scritto il presidente acquaroli nella lettera di cui parlavo poco fa cioè la situazione sta cambiando ma in questo momento nelle Marche ancora una situazione piuttosto sotto controllo quindi nessun timore nessuna paura non facciamoci prendere dal panico continuiamo a fare il nostro bra lo nostro dovere di buoni cittadini quindi distanziamento mascherine e soprattutto insomma cerchiamo di mantenere un'igiene personale di un certo tipo con mani sempre pulite perché poi inevitabilmente le mettiamo le mettiamo in bocca le mettiamo nel naso ieri mi è capitato di vedere una ragazza in macchina che stava al gesto involontario chiaramente però fate attenzione bisogna fare attenzione si mangiava le unghie come se mangiasse le noccioline ecco sono gesti involontari probabilmente ma chiaramente in questo momento in questo periodo tenere mangiarsi le unghie e lasciamo perdere i paragoni ma insomma potete capire che cosa può provocare virus i ricoverati oltre quanto scelto titola il il resto del carino terapia intensiva allarme postiletto nelle Marche peggiorano tutti gli indicatori a partire dai nuovi positivi dunque il san salvatore continua a ricevere malati dal sud questo è vero il san salvatore sta ricevendo malati dalle zone di macerata da quelle parti là ora sono cinque i pazienti in rianimazione però ripeto la situazione è sotto controllo mentre come vedete ancora ci si interroga se riaprire o no il l'ospedale Covid di Civitanova voluto da Ceriscioli e poi progettato realizzato da Guido Bertolaso così sulla falsa riga di quello alla fiera di Milano la cassiera al Quirinale invece la vedete domani sarà ufficialmente Cavalier Rosa il giorno il gran giorno è arrivato per questa cassiera pesarese dell'ipercoppa nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella lo scorso 3 giugno insieme ad altri 56 italiani che si sono distinti in modo diverso nel periodo più duro della lotta contro il Covid Rosa Maria Lucchetti questo è il suo nome aveva donato delle tessere prepagate da 250 euro con cui fare la spesa agli operatori del 118 di Pesaro accompagnando il suo gesto con una lettera di ringraziamento agli eroi dell'ospedale gesto che appunto le è valso il riconoscimento che domani le sarà consegnato direttamente dal capo dello Stato durante la cerimonia che si terrà in Quirinale alle 11 e 30 e lei dice giustamente sono emozionata poi la lettera del presidente Acquaroli ognuno di noi è decisivo la lettera che troverete e che segue appunto dalla prima pagina dunque dice di Acquaroli noi riteniamo che bisogna essere prudenti il mio invito a tutti i cittadini marchigiani è alla cautela e alla prudenza l'invito è all'attenzione e alla responsabilità abbiamo davanti sei mesi fondamentali per la sicurezza e la salute dei cittadini e per la tenuta socio-economica del nostro tessuto tutte queste cose devono essere sì oggetto delle iniziative delle istituzioni che devono scrivere chiaramente le norme dettare quindi comportamenti organizzare il sistema sanitario la medicina e quant'altro fare tampone eccetera ma dall'altra parte dobbiamo ribadire che spetta a noi stessi ogni giorno che ammonte di tutto dunque ci sono i nostri comportamenti dunque non è giusto arrivare ad un'altra chiusura dobbiamo fare tutto quello che è il nostro potere quindi come dire la responsabilità è soprattutto nostra ancora assembramenti chiuso il bar lo Spoda controlli della Polizia Municipale a Pesaro nel locale che si affaccia sulla piazza del Corbone multa da 400 euro ma stasera i titolari potranno riaprire l'assenza di mascherine, distanziamento non rispettato, tavoli troppo affollati e poi piovono disdette, i ristoratori dicono così è durissima nel primo fine settimana con chiusura anticipata alle 24 il bilancio è magro per i titolari delle attività quello che vi dicevo la scorsa settimana non c'era ancora scritto sui giornali ma parlando con un ristoratore mi diceva che soltanto il giorno prima aveva ricevuto appunto per il fine settimana un centinaio di disdette poi il cluster dell'Urbino Calcio Mister Crespi è in ospedale, lo vedete nella fotografia positivi anche tre giocatori, altri casi in attesa di conferma dunque da ieri sera è in ospedale per alcuni dolori al torace sa di essere positivo al Covid con una carica virale altissima Antonio Crespi, 53 anni, nella vita ispettore del lavoro dell'Asur a Fano e per passione però allenatore dell'Urbino Calcio, serie eccellenza proprio la squadra feltresca rischia di diventare un focolaio Covid Mister positivo, tre giocatori positivi, altri tre a casa con la febbre che aspettano di fare il tampone la squadra che ieri non ha giocato contro l'Urbania insomma questo lo troverete nell'articolo del resto del Carlino chiaramente al Mister facciamo gli auguri di pronta guarigione così come a tutti coloro che in questo momento ci seguono sono a casa o perché sono positivi o perché sono in isolamento insomma forza e coraggio Senza mascherine, proteste e multe Senigallia, il resto del Carlino, titolo numerosi i cittadini che lamentano lo scarso uso delle protezioni anche a Luna Park altra sanzione ecco, è qui il problema come vedete e quindi andare a Luna Park andare in un posto dove tanta gente gira urla perché poi a Luna Park ci sono le casse della musica a tutto volume non c'è metro quadro dove non ci siano decibel altissimi e che cosa si fa per parlare con il vicino per parlare con l'amico, con l'amica si urla e urlando che cosa succede? escono tante goccioline tanta saliva tanta roba che parte dalla bocca e finisce a così dall'altro naso o dall'altra bocca della persona che si è di fronte ecco, queste sono quelle cose che secondo me quindi inutile chiudere le chiese dove al massimo si prega piano piano e tenere aperte queste situazioni ecco, quindi su questo bisognerebbe ragionare un po' meglio essere un po' più seri perché altrimenti si rischia di fare una caccia alle streghe che non ha senso Covid-19 gli errori non si devono ripetere dice Nicola Baiocchi neoconsigliere regionale di Pesaro per il centrodestra e il nuovo ospedale non penalizzi gli altri il subentrante consigliere Baiocchi invita la regione alla collaborazione con Pesaro nell'interesse del lavoro da oggi nell'Assemblea per Fratelli d'Italia al posto di Baldelli ci sono responsabilità dice sull'inizio dell'epidemia e Baiocchi appunto da oggi siede nei banchi dei consiglieri regionali appunto al posto di Francesco Baldelli che adesso è diventato che adesso è assessore andiamo sulla pagina di Fano perché andiamo sulla pagina di Fano perché del Corriere Adriatio perché già c'è stata qualche polemica nei giorni scorsi oggi il Corriere dedica mezza pagina a questa a questa presa di posizione degli ambientalisti lupus in fabula contro il mio assessore Stefano Aguzzi ex sindaco di Colle del Metauro oggi assessore appunto all'ambiente e insomma dicono tanto per farvi capire un po' il tono di questa di questa lettera di questo di questo intervento che viene raccolto dal collega Furlani allora è come aver messo un piromane a custodia di un bosco o un lupo a guardia di un gregge non vanno per il sottile scrive Lorenzo Furlani gli ambientalisti con le metafore per definire le competenze di Stefano Aguzzi nella veste di neossessore all'ambiente e alla tutela del paesaggio oltre che all'urbanistica e al lavoro alla faccia del curriculum come sostiene Acquaroli è un commento dunque al vetriolo che vibra di indignazione politica e di dignità civile quello indirizzato dall'associazione lupus in fabula ad Aguzzi in risposta al giudizio espresso con sufficienza dall'assessore regionale sugli ambientalisti da salotto rispetto ai quali come agricoltore e cacciatore e gli ritiene di avere più titoli per la difesa dell'ecosistema rispetto ad altri insomma questo è un articolo tutto da leggere intanto sempre da Fano ha provato il secondo stralcio della passeggiata verso il porto la fattibilità già licenziata della giunta in attesa del primo appalto dei lavori cortometraggi arrivati da tutto il mondo la rinascita il tema provocato dal virus al Fano Film Festival vince per l'Italia l'ora delle nuvole e poi sotto l'estate dei Calabroni circa 70 disinfestazioni fenomeno atipico segnalato dagli ecologisti con un lavoro straordinario anche dei pompieri un giorno a casa del conte Bracci sempre da Fano il FAI apre le porte dello storico palazzo basta carnevale dice il proprietario meglio la romanità sotto Malore durante la gara in bici muore un barista di 55 anni l'abbiamo visto poco fa partecipava ad una corsa ciclistica amatoriale polizze truffa non c'è solo la diocesi 12 pesaresi vittime della Valor Life spuntano altri casi dopo quello più clamoroso la società con sede in Liechtenstein aveva un intermediario finanziario in città mentre sotto festa del voto con le restrizioni l'omelia tra coliera e covid ieri c'è stata a Pesaro la Madonna delle Grazie la festa del voto le parole dell'arcivescovo durante la messa di ieri pomeriggio Urbino otto fotografi di fama nazionale a Urbino raccontano il lavoro di De Carlo mi devo fermare perché non c'è più tempo grazie per averci seguito ci vediamo stasera con il telegiornale poi con primo cittadino e il sindaco di Terra Roveresche Sebastianelli arrivederci grazie a tutti